Non si placano le polemiche relative a come sia stata affrontata a pescare in provincia l'emergenza maltempo, ad attaccare la macchina della protezione civile e il Movimento 5 Stelle che si prepara ad una fiaccolata solidale l'8 dicembre che si snoderà lungo le vie del centro del capoluogo adriatico proprio per richiamare l'attenzione sui danni e sui disagi alla popolazione provocati dal maltempo ma ancora di più sulla mancata prevenzione e sul dissesto idrogeologico. L'uso del territorio, la pianificazione urbanistica carente, gli abusi edilizi e la mancata manutenzione soprattutto in Val Pescara, dicono gli attivisti grillini, sono alla base degli allarmi delle morti e della devastazione. Questa è stata volutamente fatta passare come un'emergenza maltempo ma in realtà sono stati dei giorni in cui c'è stata una pioggia autunnale che poi naturalmente si è trasformata in un'emergenza anche da come è stata raccontata dai nostri amministratori in quanto poi i danni che sono visibili sotto gli occhi di tutti sono stati molto più importanti di quello che in realtà dovevano essere. Avete avanzato anche dei dubbi sui progetti di Megalo 2 e Megalo 3? Sì, i dubbi non sono nuovi, nel senso che la zona di Megalo è una zona che da sempre si sa che è a rischio idrogeologico, non ci si sarebbe potuto costruire perché fa parte di quell'anza in cui il fiume Pescara dovrebbe sfogare in caso di esondazione. Il sindaco di Chieti ha detto che mancano 400 metri di argine. Il sindaco di Chieti spero che prenda una posizione definita e definitiva su questa questione perché aumentare secondo i tecnici ulteriormente gli argini probabilmente proteggerebbe Megalo ma non proteggerà tutte le altre zone circostanti che verrebbero allagate. Se vogliamo trasformare la Val Pescara in Atlantide va bene.